Anche una cosa, è impossibile, è impossibile ragionare come sta gente per me, perché so che sono sporchi Queste persone hanno cercato di, queste persone, com'è qua, hanno cercato di fare danno, capito? Hanno cercato di uccidere, di fare, di sfregiare e fanno finta di niente Loro fanno finta di niente, anzi, sono contro di me, ma ve l'ha portato una testimonianza Io ho denunciato tutti, anche i miei genitori, anche mio padre, anche Zani stess È perché vi fate abbindolare, non lo capite, cazzi vostri Ma la fate vedere una cosa, una cosa a favore mio, di quello che ho detto io Una cosa, non c'è niente, non c'è niente E se mia madre non capisce, per giunta gli devo spiegare le cose Gli devo spiegami che cosa è successo, cosa c'è da spiegare? Che cosa c'è ancora da spiegare? Non ti sei accorta di niente, strano, vuol dire che sei compromessa Grazie